Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del TMW News, si è aperta una nuova settimana come sempre intrisa di calcio mercato e non potrebbe essere altrimenti in quel di luglio e per questo in studio con noi c'è il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, buonasera benvenuto, buonasera a voi, buonasera a tutti, apriamo quindi una pagina dedicata al calcio mercato e ripartirei da questo interesse appunto della Juventus per Thodibaut del Nizza, una voce abbastanza nuova per quanto riguarda il mercato dei bianconeri, si è detto che c'è stata un'apertura al prestito da parte dei francesi, sul mercato della Juventus questa potrebbe essere la prossima mossa da parte dei bianconeri? Beh io credo che insomma un difensore lo faranno come faranno anche un centrocampista, è un attaccante, insomma è stato molto chiaro anche Cristiano Giuntoli nel momento in cui c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Tiago Motta lui ha parlato di altri tre arrivi, uno per reparto e Thodibaut sicuramente è il giocatore che loro stanno monitorando da tempo, tieni presente che dal punto di vista delle uscite ci potrebbe essere anche la partenza di Uisen che ha molto mercato soprattutto in Bundesliga e quindi questo potrebbe portare alla Juventus anche dei soldi eventualmente da poter reinvestire non solo sul difensore ma anche sul centrocampista e anche il destino di Rugani c'è da capire ancora quale potrà essere, se resterà o meno perché c'è anche questo interessamento abbastanza importante del Bologna. Thodibaut è un'idea che comunque loro hanno da tempo e a maggior ragione se ci dovessero essere anche aperture a formule di non titolo definitivo questa cosa sicuramente alla Juventus non fa che comodo perché può permettere eventualmente di tenere dei soldi da investire soprattutto sul Cup Miners che è un po' il grande colpo di quest'estate. Per cui c'è grande movimento in casa Juventus e come del resto c'è movimento anche per l'attacco perché voi sapete tutti che insomma Sule è un giocatore che ha molto appetito ma in questo momento Sule ha scelto la Roma, c'è il Leicester però comunque lui vuole andare a vestire la maglia giallo-rossa, è chiaro che con un rilancio del club secondo me questa operazione si può chiudere e conseguentemente insomma se esce anche Sule lì dovranno poi fare un ragionamento diverso, c'è ancora la questione di Chiesa da capire se il resta va via, c'è solo un altro anno di contratto quindi Milik è un altro giocatore che di fronte ad un'offerta alla Juventus potrebbe far partire, in quel caso magari ho più idee chiare io nel senso che se esce Milik e Reteghi potrebbe diventare un'opportunità per la Juventus però insomma il mercato della Juve direi abbastanza chiaro in questo momento c'è qualche giocatore che è in uscita, vediamo che succede anche con Kostic però insomma ecco le linee guida sono state portate avanti, la rivoluzione rispetto al recente passato è cominciata poi è chiaro che ogni sessione che ci sarà da qui in avanti comporterà altri innesti e altre situazioni perché poi l'obiettivo finale della Juventus è quello nel giro della prossima stagione perché come vedi sono tutti molto prudenti sulle dichiarazioni però a partire magari dal 2025-2026 essere una squadra pronta per tornare a lottare effettivamente sulla carta per lo Scudetto Milan che invece ha sistemato la prima punta con l'innesto di Alvaro Morata dopo aver trattato anche Joshua Zierkzee, le manovre in attacco del mercato del Milan si chiuderanno allo Spagnolo oppure c'è qualcosa che bolle in pentola comunque sul reparto fisico? Ma io credo che lì debbano fare qualcos'altro perché comunque allo stato attuale c'è Morata c'è Jovic come punte centrali e penso che il loro obiettivo sia quello di andare a prendere magari un altro centravanti con caratteristiche fisiche anche diverse rispetto a quelle di Morata, Morata è un centravanti di movimento, apre gli spazi per gli esterni, insomma un moto perpetuo, un giocatore che comunque sia svaria su tutto il fronte offensivo e quindi per questo è sempre molto gradito a tutti gli allenatori che lo hanno voluto perché è un giocatore totale a livello offensivo, è chiaro che magari segna qualche gol in meno però allo stesso tempo è un giocatore funzionalissimo, ha un sistema offensivo, insomma se tu vedi anche nella Spagna c'è Morata fa il centravanti però poi c'è Nico Williams, Yamal che naturalmente sfruttano anche i suoi spazi per poter andare a convergere al centro e andare alla conclusione ora è chiaro che stiamo parlando comunque sia di due esterni fortissimi quindi al di là di Morata sarebbero in grado ugualmente di andare alla conclusione però Morata in un contesto di squadra come quella ti dà sempre delle soluzioni offensive diverse e quindi tornando al Milan io credo che loro proveranno a vedere se riescono a prendere Fulcrug e poi valuteranno che fare magari con lo stesso Jovic ma non è solo in attacco quello che il Milan sta pensando di fare perché c'è anche a centro campo qualcosa di importante che loro stanno valutando Fufanà è chiaramente un obiettivo dall'inizio del calzomercato, hanno già l'accordo con il giocatore in linea di massima, il problema è soddisfare le richieste del Monaco che sa benissimo non può chiedere troppo visto che il ragazzo ha il contratto fino al 30 giugno del 2025 e quindi stanno cercando di spendere magari un po' meno rispetto ai 20-25 che loro chiedono allo stesso tempo forse questo è un ragionamento più mio che altro riuscendo a risparmiare qualcosa sulla punta centrale, sulle operazioni della punta centrale 13 Morata magari 15 su Fulcrug se sarà Fulcrug questo permetterà secondo me al Milan di pensare anche a Samarzic cioè di andare a centro campo a fare Fufanà e Samarzic perché comunque sia Samarzic un giocatore che a loro interesse e che potrebbe essere valutato sui 25 milioni di euro. Sulla difesa hanno già capito e hanno già individuato il profilo di Pavlovich che comunque il Salisburgo per ora non vuole lasciare partire a cifre basse e quindi è su questo che loro devono lavorare. C'ho solo un dubbio che riguarda la fascia destra perché se non ricordo male quando stavano trattando un giocatore come Emerson Royale l'idea era quella di mettere sulla fascia destra un giocatore simile come fisicità e come caratteristiche a Teo Hernandez sulla sinistra e quindi magari lì se li dovesse spuntare un'occasione potrebbero decidere di fare un inserimento anche sulla fascia destra. Poi per il resto il mercato del Milan a grandi linee dovrebbe essere questo. Ricordiamoci sempre che poi le occasioni possono venire fuori quando ritorna il calcio giocato perché da quando si supera Ferragosto... Si ha il banco di prova su cosa si ha a disposizione. Esatto e poi soprattutto c'è qualche scontento magari in qualche grande squadra e questo magari può favorire un eventuale prestito con diritto. Ecco riportando dal Milan sulle uscite un nome che è rientrato dopo un'annata a Bologna e che è sul tacchino di diverse squadre Alexis Salemakers l'abbiamo raccontato anche sul mercato web. Il Napoli sta cercando l'esterno ormai ex Felsineo. È un'operazione che può andare in porto. Cosa c'è di vero dietro a questo interesse del Napoli per Salemakers? E il mercato del Napoli quanto dirà ancora da qui al 30 di agosto considerando che Conte ha avuto grosse garanzie quando ha firmato per De Laurentiis? Ma allora io su Salemakers penso che sia un giocatore molto funzionale perché comunque è tatticamente bravo soprattutto questo per questo credo che sia molto apprezzato. Il Bologna l'ha preso non solo perché comunque gli poteva segnare dei gol nel ruolo di esterno ma anche perché tatticamente sa ricoprire le posizioni. Ora vediamo perché sai loro hanno in uscita l'Inström e quindi avendo in uscita l'Inström potrebbero anche decidere di mettere dentro un altro esterno tenendo presente che comunque non si è ancora capito in maniera definitiva se Conte adotterà il 3-5-2 per tutta la stagione oppure eventualmente per alcune situazioni. Comunque Salemakers è sicuramente un buon giocatore ma io credo che questa operazione qui sia comunque importante ma è la settimana decisiva per Lukaku e per Ozymen perché se arriva l'offerta del Paris Saint-Germain per Ozymen loro prenderanno sicuramente Lukaku. La richiesta è 35 milioni di stelline del Chelsea. È chiaro che Lukaku ha già detto di sì a Conte. Non ci saranno problemi per l'ingaggio perché anche su quello hanno già una bozza d'accordo. Si tratta di mettersi d'accordo soprattutto con il Chelsea e in particolar modo la mettersi d'accordo con il Paris Saint-Germain per Ozymen perché ricordiamolo Ozymen ha un contratto importante a livello di stipendio ma allo stesso tempo ha anche una clausola che impone un certo tipo di investimento da parte del Paris e io sono convinto che il Paris Saint-Germain debba fare un'offerta sostanziosa per soddisfare ovviamente le esigenze del Napoli anche se tutti ormai sono convinti che Ozymen debba andare perché comunque anche lui lo vuole. Lukaku debba andare al Napoli perché anche lui lo vuole. Alla fine penso che questa operazione Ozymen al Paris, Lukaku al Chelsea faccia contenti un po' tutti. Chiudiamo questa sventagliata sul mercato con una parentesi sull'Inter. In Erazzuina hanno perso Cabal poi finito alla Juventus. È uscito questo in teresse per Renan, difensore dello Zè di San Pietroburgo. Quante altre manovre compierà l'Inter da qui alla fine del mercato considerando che ha già accolto due acquisti già fatti di fatto la scorsa stagione come Zielinski e Taremi? Io credo questo, che un altro acquisto potrebbe esserci soprattutto per il discorso della sostituzione di Buchanan. Io credo sia quello fondamentalmente il giocatore che adesso stanno cercando. Quindi loro cercheranno di trovare il cabal della situazione per dare una soluzione in più a Simone Inzaghi. Dove sussidere poi un altro attaccante, magari Arnautovic, allora potrebbero pensare di fare un investimento anche sul settore offensivo. Ma fondamentalmente siamo arrivati proprio... Tesman era un'operazione per il futuro, ma poi ragazzo per mille motivi... Ecco, quindi quello è un fronte saltato per il momento. Allora, saltato è una parola che non va mai detta nel calcio mercato in senso assoluto. Diciamo un fronte che si è totalmente raffreddato, sì, vediamo se si dovesse riaprire. Però non ci sono i margini oggi per fare l'operazione. Quindi, tornando alla tua domanda, credo che cercheranno soprattutto un difensore con quelle caratteristiche. Benissimo, questa è stata un'ampia pagina sul mercato con Niccolò Ceccarini, che ringrazio per essere stato con noi. Noi proseguiamo adesso la nostra chiacchierata con un ex calciatore da Luigi Garzia. Luigi, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Grazie. Buonasera a voi. Su tutto il mercato web dell'interesse della Roma e anche della Juventus per Matteo Reteghi, centravanti della nazionale italiana all'ultimo europeo, seppur con poco impiego. Ti chiedo un paere sul Reteghi dopo un anno solo che l'abbiamo visto all'opera nel nostro campionato e se è un attaccante che si può ritagliare uno spazio ipoteticamente in una squadra come la Roma o anche la Juventus. Questo è da vedere. Comunque stiamo parlando di un nazionale, un giocatore che comunque ha fatto bene anche quando è stato chiamato nella nazionale. Nel Genova ha fatto un grande campionato e sono dell'idea che nel momento in cui viene seguito un giocatore, soprattutto dall'allenatore, lo vogliono a tutti i costi, vuol dire che qualcosa di buono un giocatore ce l'ha. In questo caso comunque io punterei su questo ragazzo perché è veramente un classico uomo d'area di rigore che difficilmente sbaglia. Poi è chiaro che giocare nel Genova è una cosa, giocare nella Juve è in un top club è un'altra. Però io credo che alla fine possa fare bella figura anche in queste squadre qui. Ecco, quindi chiusando la parentesi Roma, mi vieni da chiederti che cosa manca a questa Roma per fare uno scalino più avanti, quindi per entrare tra le prime quattro e raggiungere la Champions League? Roma è una piazza particolare. È chiaro che per cercare di raggiungere, di colmare questo gap con le altre che purtroppo c'è, e sono pure tante, quello è il problema, non è che dici vabbè c'è bisogno di colmare questo benedetto gap con tre o quattro squadre, invece sono tante squadre che lottano per andare in Champions. È chiaro che bisogna investire, bisogna investire tanto perché comunque quelle là davanti ogni anno lo fanno e se la Roma ogni anno, negli ultimi anni, non riesce ad entrare in Champions, un motivo c'è, ed è proprio questo, che purtroppo gli investimenti non sono all'altezza. Secondo me bisogna fare qualcosa in più. Un'altra maglia che fa parte del tuo passato è quella del Torino, che ha accolto in queste ore, c'è Adams davanti, attaccante ex Outempton, è rimasto svincolato, Torino che riparte con Paolo Vanoli alla guida al posto di Ivan Iuric. Come lo vedi questo nascituro Toro dopo la parentesi con Iuric e che sensazioni ti lascia in questo momento? Guardi, anche per il Toro sarà dura, ma per il semplice fatto che non avrà difficoltà sicuramente a salvarsi, però è chiaro che loro cercheranno di raggiungere un posto in Europa, però il campionato italiano ogni anno si fa sempre più duro. Vanoli secondo me è un'ottima alternativa a Iuric, comunque al di là di tutto Iuric ha fatto bene, soprattutto l'anno scorso, anche lo stesso discorso della Roma vale anche per il Torino. Per raggiungere determinati obiettivi purtroppo bisogna investire e di conseguenza spendere un po' di soldi. Io lo so che è comunque una piazza molto esigente e vuole finalmente cercare di ritrovare è un posto in Europa che manca da tanto a questa squadra. Secondo me la merita tutta, soprattutto per i tifosi. Ecco, da ex difensore e da ex Torino, o quale anche Angelo Gbonna, proprio di cui volevo parlare, in queste ore è stato accostato nuovamente all'Italia. Gbonna è rimasto svincolato dopo nove anni all'USM, che non gli ha rinnovato il contratto. Ti chiedo, secondo te ha ancora qualche cartuccia da sparare all'età di 36 anni? Oddio, non è facile, nel senso che potrebbe fare un anno, secondo me, a grossi livelli, però è chiaro che una squadra può fare, secondo me, altro, cioè cercare di investire nei giovani. Però all'occorrenza può essere un giocatore utile, però parliamo sempre comunque di un giocatore di 36 anni. Quindi se dovessi essere io alla società cercherei comunque di investire nei giovani, o perlomeno in un giocatore che è vero con esperienza, ma non di 36 anni. Con tutto rispetto a Gbonna, che comunque parliamo di un giocatore che ha fatto la sua carriera, soprattutto in Inghilterra, però sono sempre 36 anni. Sì, sì, è anche vice campione d'Europa con la nazionale nel 2012, non è stato un difensore qualunque, però chiaramente l'età avva, anzi, agli anni si sentono. Restando sulla difesa, l'ultima domanda che ti volevo fare da ex Lecce. Il Lecce ha perso Marin Pongracic, è finito alla Fiorentina. Quanto ci ha perso il Lecce a livello tecnico con questa cessione, visto che sono anni che comunque dopo buoni campionati il Lecce perde per fare cassa i suoi pezzi pregiati, come accade con Juhlmann l'anno scorso, per esempio. E di riflesso quanto ci guadagna la Fiorentina, che l'ha preso sostituendo Milenkovic? Allora, è chiaro che la politica del Lecce è quella, nel momento in cui è a disposizione dei grossi giocatori, chiaramente questi vengono richiesti da altre società, ma al di là della società sono i giocatori stessi che poi chiedono di andare via, giustamente come credo che sia. E' chiaro che il Lecce perde un grandissimo difensore, lo posso assicurare, è veramente un giocatore forte, quasi un giocatore vecchio stampo, cattivo agonisticamente parlando, è grande personalità e vi posso assicurare che la Fiorentina ha fatto un grande acquisto. Per quanto riguarda il Lecce è chiaro, perde un grande giocatore, però noi siamo abituati a vedere i giocatori di passaggio, però conoscendo Corvino riuscirà sicuramente a sopperire questa mancanza prendendo altri giocatori. Luigi Garzia, grazie per essere stato in nostra compagnia, a presto e buona serata. Grazie a voi, piacere è tutto mio. Con le riflessioni di Luigi Garzia sul campionato italiano sulle principali squadre, abbiamo concluso questo appuntamento con il Tmv News, il primo di questa settimana che è appena cominciata, noi vi ringraziamo e vediamo la buona serata, il Tmv News torna come sempre domani con un nuovo appuntamento. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.